Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Amici di Scusa Meri, buonasera Ben trovati su Teleide, puntata dedicata a Fiorentina Inter Non potrebbe essere altrimenti vista la partita di venerdì E oggi lo commenteremo Insomma, e torneremo indietro della storia Con un tridente al completo Finalmente Stefano Cecchi Fabio Incatasciato E Riccardo Ventrella Buonasera a tutti e tre Buonasera ai nostri telespettatori Allora, la scheda ci vorrebbe subito trascinare nel 98-99 La Fiorentina di Elbundo, Arric Ma c'è un'altra partita della quale noi vogliamo parlare prima Un Fiorentina Inter rocambolesco Forse uno di Fiorentina Inter che ci è rimasto di più nel cuore Con una Fiorentina Fabio che ricordava un po' la Fiorentina di adesso Come situazione societaria Come valore della Rosa La ricordava la Fiorentina di adesso E Giacomo ricordava quella partita un po' quella di adesso Perché era una Fiorentina che con il Pontello Aveva deciso di vendere ogni anno i suoi giocatori più forti Quell'estate lì era toccato a Nicola Berti Il più forte di tutti Il fenomeno futuro Che era in campo in quella partita Che in quella partita fu in campo E poi racconteremo anche Cosa è successo lo racconterete voi Perché ognuno di noi si porta il ricordo Così un po' come è successo con Borca e Vecino Anche se insomma le Vicenze sono sempre differenti Nonostante questo La Fiorentina ebbe comunque la forza Di allestire una squadra competitiva Con la crescita di alcuni giovani Con Roberto Baggio che rimase a Firenze E con due novità assolute Una era Carlos Dunga Che era andato un anno a maturare a pista La Fiorentina si accorse di avere questo giocatore Che era il resto dell'affare Socrates E a Dunga con Anconetani che lo volle lì Perché capì che in quel modo si salvava A pista Dunga aveva fatto molto bene Arrivò era ancora giovanissimo 24-25 anni Fu un giocatore che entrò in quel centrocampo Ed è rimasto poi nel centrocampo ideale di tutti i tifosi della Fiorentina E l'altro fu Borgonovo Perché Borgonovo che era un giocatore ormai del Milan Che il Milan che era pieno di campioni Era deciso di mandare un anno da qualche altra parte Diventò il giocatore Simbolo della coppia con Roberto Baggio Ecco Stefano Fiorentina-Inter Siamo in febbraio del 1989 Una partita insomma Tanto si può spolerare il risultato Perché credo Chiunque ci stia guardando Se ne ricordi È un 4-3 Insomma ha dentro tutto Della magia del calcio E del tifare la Fiorentina E come no Come no Anche allora era un Inter Molto borghese Come è stato un po' borghese L'Inter di venerdì scorso Cioè una squadra che Tecnicamente era molto chiude Rispetto a questa Fiorentina E paradossalmente Anche se poi il risultato è molto diverso Perché un 4-3 è diverso Da un 1-1 C'è comunque un filo conduttore Che secondo me lo ricorda Cioè Il fatto di come Fiorentina Abbia giocato dalla squadra Annullando quella differenza tecnica Che c'era anche venerdì sera E che anche allora esisteva Ma che poi alla fine raccontò Per fortuna nostra Un altro risultato Secondo me resta Tra le partite più belle Mai giocate Della Fiorentina Per quella che è la Diciamo la vicenda emozionale Della gara Ricordiamo Stefano Era l'Inter di Trapattoni Che a differenza L'Inter di Spalletti Insomma stava lottando Ed era in testa al campionato Che venne a Firenze Avendo subito 3 gol In tutto il giro d'andata Ne prese 4 Una partita su Sì ma diceva Era un Inter molto più forte Ma paradossalmente Per assetto tattico Ricorda l'Inter di Spalletti Che non è un Inter Spumeggiante Ebriosa La squadra di Spalletti Si racconta Anche per questa sua dimensione Trapattoniana Che ha assunto Tra l'inizio del campionato E che ha dimostrato La tessera a Firenze Aspettando spesso La Fiorentina E anche allora Quella squadra Che era Di tanto talento in più Ma era una squadra Che aspettava Di avversare E poi la distruggeva La Fiorentina La colpì Con una gara corale Ricordando un po' Nel suo piccolo Anche la Fiorentina Di Pioli Che è stata Molto più corale Di quanto non lo fosse L'Inter Mentre ella Nell'Inter C'era la difesa Sostanzialmente Era nazionale Perché Zenga tra i pali Ferri e Bergomi I marcatori Insomma C'erano poi I tedeschi Breme e Matteus Era comunque Uno squadrone Insomma Con l'Inter Possiamo raccontare Un po' In filigrana Tutto il calcio Di quegli anni lì Perché Appunto L'Inter aveva questi campioni Ma le altre squadre Ne avevano altre tanti Sì Erano gli anni In cui Ancora Gli anni In cui I campionati Italiano Era il Il campionato Più attrattivo Insomma E di fatti In quella squadra Poi Militavano I tedeschi Erano Insomma Quelli che poi Sarebbero diventati Campioni del mondo Non erano diventati Campioni d'Europa Perché In casa Si erano fatti battere Dall'Olanda Negli olandesi del Milan Esatto In semifinale Però Erano Insomma Al centro Del calcio europeo E Trapattoni Aveva assemblato Questa squadra Rocciosa Ma anche Talintuosa Insomma Con Una difesa Granitica Ma un grande Dinamismo Tra centrocampo E attacco Ecco Vorrei chiedere A Cecchi E a Incatasciato Che sono Come dire I due ultras Del nostro tridente Una riflessione Su due giocatori Che erano poi Fondamentali Per Per l'Inter Di Trapattoni Che uno era Nicola Berti E l'altro Era Mondiaz No? Tutti e due Arrivati all'Inter Come dire Per Arrivarono all'Inter In maniera diversa No? Perché Mondiaz arrivò Perché non riuscirono A prendere Magè Questo tacco Di Allac Che aveva fatto Vincere al Porto La Coppa dei Campioni Il giocatore Algerino Mette Berti Fu fortemente Voluto dall'Inter Rifiutò il trasferimento Al Napoli Quindi insomma E nel male Fece capire Alla piazza Che lui voleva andare All'Inter Tant'è che poi Ho accorto Non benissimo I tifosi viola Lo strappo Da Firenze È avvenuto In maniera diversissima Fra dei giocatori La Mondiaz Se ne andò Una vicenda Di normale Calcio Assolutamente Non lasciando ferite No Per come se ne andò Invece Nicola Berti Insomma È una scessione Berti era arrivato A Firenze Da ragazzino Ramon Diaz Da campione Comunque già affermato Giocando la nazionale argentina Con la maglia viola Berti era cresciuto Questa sua esplosività Questa sua Questa sua corsa Meravigliosa Questo suo Sembrare sempre affannato Sul punto di cadere Invece Non era pigliavi mai In anticipo D'avversario Prendere mai E se ne andò In maniera Che ha ricordato Alcune delle Delle cessioni Più dolorose Penso a Montolivo Sono d'accordo Sono d'accordo Anche se Cioè Giocatori che hanno Anni luce Più grande Montolivo Ma insomma Alcune vicende Omeccarnici Recentemente Cioè giocatori Che per forza Hanno Per andarsene Da Firenze Ogni costo Senza nessun tipo Di ritegno E se non ricordo In quella partita Io c'ero Insomma Tornare a casa Senza voce Per il gol finale Di Borgonopo Ma anche Di aver costretto Tutta la partita Perché Berti giocò Un tempo E poi uscì lacrime Fu sostituito Giocò Uscì alla fine Del primo tempo Ma non aspettò L'intervallo Fu sostituito Prima Trafattoni Non toccò Palla Berti ebbe Un impatto Su quel campionato Nell'Inter Devastante Mai visto Un giocatore Così giovane Giocare Le prime giornate Così bene Perché segna Fa un gol Memorabile Al Bayern Monaco In una partita E l'Inter Grande soddisfazione Per i tifosi viola Assolutamente Visce a Monaco 2-0 E perdono a Milano 3-0 Poi dopo Perdono Quindi è arrivato Come nessuno Sostanzialmente A Firenze Ma non la vide mai Tra l'altro In quella partita Ericsson Che era un grande allenatore Perché noi sapeva Dunga Sapeva Di Cara Sapeva Baggio Sapeva Borgonovo Però ci sapeva Anche un grande allenatore Che era svegli Era una squadra collettiva Una squadra collettiva Rispetto al trapattoni Non c'è dubbio Ericsson in quella partita Inventò Una scelta Di formazione Che Quando sentimmo Sostanzialmente All'inizio L'altoparlante Non ci credevamo Alternava Due esterni Molto fisici Non grandi giocatori Ma insomma Di grande tini Erano Salvatore e Mattei Sulla destra Tolse Carobbi Fece giocare Mattei A sinistra Perché doveva Contrastare Bianchi Perché doveva andare Poi a prendere Anche Berti E Salvatore sulla destra Invece Fece una grande partita In coppia con Bosco Ma quella partita Fiorentina-Inter È la partita È Borgonovo Abbiamo visto Segnoggo Alla fine Ma ricordiamolo È anche la partita Di un grande centrocampista La Fiorentina Aveva quell'anno I giocatori più sfortunati È la storia del calcio Che si chiamava Enrico Cucchi Però quella gara Secondo me La racconti Per due episodi Il gol finale Di Borgonovo Che si dice Il gol di rapina Il classico Il gol di rapina Ecco Credo che nel calcio Non ci sia gol di rapina Più di rapina Più di rapina Anche per questa Per questo scena Di fischi Che tutta Firenze Ecco il gol Di gioco Prima di rapina In cui Il calcio Quando si pareggiava Una partita Con tanti gol Stefano A pochi minuti Alla fine Qui era l'86 La Fiorentina Era andata Perdeva 1-0 Poi 2-1 Poi 3-2 Poi 3-3 La partita Era finita Il gioco Era quello Di prendere il pallone Di passarlo Al relativo portiere A che tempi La palla Potrà prendere il portiere L'Inter prendeva un punto E la Fiorentina Prendeva un punto Contro la prima In classifica Ecco a volte La storia si rompe E la rompono Campioni La rompono Grandi giocatori Perché lì Bergomi Prende il pallone E non vedrà Di darlo a Zenga Che lo deve tenere Fra piedi Fa passare Un altro minuto E rinviare Credo Potete fare con le mani Ancora Quei tempi Sì Assolutamente Sì La passava indietro Perché passavano Negli ulteriori 20-30 secondi E fece Borgonovo Decide Fra Ferri E Baggio Credo sia Di nascondersi Ma guardatelo Se si può riproporre Quel gol Schizza Come mosso Come ci avesse Un'esplosione Dentro Senza che nessuno Si fosse accorto Che fosse lui Recupera il pallone Mette a sedere Zenga Perché poi Si è andata Anche messo a sedere Il portiere Non era scondato Vedete Zaccate Ecco qui In quel momento Noi tutti E se era Curva Fiesole Si disse Ma è vero È possibile Dopo aver risultato Per un 3-3 Non fu nemmeno Un gran passaggio Quello di Bergomi Un po' Un po' Avventato Lo chantellò Lo chantellò Sicuramente Quello di essere Di certo sera Avuto più classe Il periodo di calcio Era quello Lo spazio di calcio Era quello È vero Tra l'altro Questa domenica qua Il Milan Che gioca in casa Col Bologna Pareggia 1-1 Perché nello stesso momento In cui Bergomi Fa questo scelerato Passaggio a Zenga Baresi decide Di farlo A Galli Nel Milan Il Milan In vantaggio 1-0 A San Siro E lì la palla Va direttamente in porta L'autogol più clamoroso Della storia del calcio E quindi Il giorno dopo I giornali misero insieme Questi due grandi campioni Erano Pola Colonna La difesa della nazionale Beppe Bergomi E Franco Baresi Che avevano In qualche modo Condannato le sue due squadre Una a pareggiare In casa con Bologna L'altra a perre Torniamo a parlare Di questo campionato Più avanti Nel secondo blocco Perché c'è da parlare Dello stadio Che abbiamo visto Come dire Per i mondiali Poi c'è da parlare Un minuto Anche del gol di Borgonovo Alla Juventus Perché Gol al novantesimo All'Inter Ma gol anche alla Juventus Due grandi soddisfazioni Però adesso È il momento di aprire Il primo spazio Ventrella Perché cosa accadeva In quegli anni Caro Riccardo Al di là Del gol di Borgonovo Ma siamo a febbraio Dell'89 Quindi febbraio È per eccellenza Il mese di Sanremo Eh beh Alla già mancata Eh va bene Insomma Si sta approssimando Sanremo 12 febbraio Ne parleremo Nelle prossime puntate Perché cercheremo Di cavalcare L'onda Della riviera E E quel Sanremo Lì Vinto Dalla coppia Leali Oxa Fu caratterizzato Anche se in classifica Non andò benissimo Però La canzone simbolo È probabilmente questa Un fiorentino Anche se Non di nascita Ma di trapianto Raff Cosa resterà Degli anni 80 Che è La canzone Che fa un po' Il bilancio Di questo decennio E che in qualche modo Poi ci introduce Nel successivo Insomma Guardate anche la giacca Di Raff Anche il capello Direi Questa è un'acconciatura Già di passaggio Tra gli anni 80 E gli anni 90 Il tuo rimanda è un po' Di colaberti Raff Guarda Si Il taglio dei capelli Si taglio dei capelli Che andava Anche la fascia di capitano Sì esatto Diciamo che è Un perfetto mix Nel look Tra il Gli anni 80 E gli anni 90 Sì Siamo a cavallo Siamo a cavallo Anni ballando Ballando Regan Gorbaciov Quale migliore sintesi Sociopolitica Di questa C'è chi Tu che sei un starremologo Insomma La coppia La coppia Le Ali Ox Era un po' Serena Riaz Baggio Borgo Novo Una grande coppia D'attacco No Vai 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 Stefan No No perché secondo me È una coppia Le possiamo paragonare Secondo me Ritengo che artisticamente La Ox Sia qualcosa in più Di Fausto Leali Che però Quegli anni Era un grandissimo Cavallo di ritorno Sì Era un cavallo di ritorno Era un po' Mebbaggio Poi ai mondiali In Francia Siamo due Un cavallo di ritorno Quindi L'accompagnerei Un po' Non lo so Forse Forse Ha il Ma infatti Era la spalla Di lei In quella operazione Che fecero Di metterle Sì Ha ragione Dopo Gli angeli negri Attraverso Un periodo di appannamento Fausto Leali E torna E un po' Il Tony Che ritorna con Montella Sì Di Raff Di Raffa cosa vuoi dirci Perché secondo me È molto bella La cosa resta Degli anni 80 Raffa ha fatto Le canzoni bellissime Tra l'altro Raffa Siamo sottovalutato Nella canzone Nella musica leggera Come nel calcio Ci sono spravalutati Pensavo prima A Ramon Diaz No 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 Fermiamo subito No 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 Fermiamo subito E nella musica leggera Raffa secondo me Ha scritto cose bellissime Anche di grande poesia Ora Maestro Ventrella Banalizzava un po' Regan Grubascioff Ma era una canzone Comunque manifesto Degli anni Danza la fame nel mondo In un clima Bigazzi Beppe Dati In quel caso C'è della scienza Volevo buttare Un carico Noi siamo sempre Più soli Singole e metà Cioè è comunque Un verso Che ha Quasi del profetico Se pensiamo A quello che è avvenuto E che sta avvenendo Tutto oggi Tutti noi presi Al nostro telefonino Non guardiamo più Cosa accade Perché Sanremo Anticipa Sociologicamente Quello che poi La filosofia E altre scienze Della branca Consegnano Sanremo In questo caso Anticipò E raccontò Quello che poi Sarebbero stati Esatto Gli anni Gli anni a venire Ma gli anni a venire Tra l'altro Colgo Proprio questa Citazione del telefono Allora il telefonino Non c'era Non c'era il cellulare Ma c'era il telefono Allora Colgo l'occasione Per lanciare Lo spot tormentone Ma allora mi ami Ma quanto mi ami E mi pensi Ma quanto mi pensi Ma quanto mi costi Sei in teleselezione Mamma La sera dopo le 6 e mezza Costa meno Ah davvero Bellissimo Dopo le 18 e 30 Tre minuti in teleselezione Da Milano a Catania Ad esempio Costano come un cono gelato Ma allora mi pensi Ma quanto mi pensi La teleselezione Conviene Dopo le 18 e 30 Nei giorni festivi Conviene di più Lei era Yvonne Shaw Yvonne Shaw Che conquista la fama Sì Che poi sarà protagonista Anche di Non è la Rai Negli anni successivi E qui abbiamo un concetto Interessantissimo Che è quello di teleselezione Vedo già C'è chi si illumina Perché non so Non sa Nosa è la sua epoca Esatto L'unica l'ha praticata Esatto L'ha praticata numerose volte Ero già anziano Allora ricordo Per telefonare Alle mie fidanzatine Che stavano lontano La teleselezione Era 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 La SIP Poi già mi colpisce Il fatto che ancora Si chiamava SIP Credo fosse Società Italiana Per l'esercizio telefono Esatto Che unificò Le numerose società Che c'erano prima In cui era diviso Il mercato telefono La SIP Già quello Mi sembra davvero Di raccontare Un'altra epoca Invece Sono passati appena 30 Appena 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 La teleselezione Data La teleselezione Data 1970 Prima di allora Cecchi Doveva comporre O il 14 O il 15 Per farsi mettere In contatto Con un altro Distretto Telefonico Per me lo shock No Con gli spin Esatto Lo shock Fu quando Perché Forse voi non ricordate Siete troppo giovani Che per chiamare Dalla tua città Da Firenze a Firenze Non c'era il prefino Non facevi il prefisso Questo fino al 95 Non facevi il prefisso No Forse anche dopo No 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 Fino al 95 Il prefisso è stato integrato Nella numerazione Nel 95 Quindi già questo Già il fare il prefisso Dava fastidio Dava fastidio A quei tempi davvero Le interurbane erano Ma poi notavo come Questa morbidezza Nei toni Ma tu mi ami Quanto mi ami Cioè il telefono Era questo strumento ancora Non virtuale Di dialogo a distanza Parlavi davvero Reale 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 Parlavi davvero E non c'era Oggi è diventato Un grande messaggio E non c'era Nell'ai volso Non c'era plastica Poteva esserci retorica Poteva esserci Ma c'era una dimensione Più umana Di quanto oggi Questi strumenti qua Eh Possano Fermiamoci Perché Abbiamo sforato Con la teleselezione Torniamo tra poco Col secondo tempo Di Scusa Meri Qui su Televide Eccoci qua Secondo tempo Di Scusa Meri Su Televide Stiamo ripercorrendo La storia Della nostra squadra E del nostro paese Agganciandoci Al concetto Di Fiorentina Inter Ultima partita Giocata dei Viola Abbiamo fatto Un balzo indietro Di qualche decennio L'88-89 Stavamo Ripercorrendo Un po' anche Cosa accadeva In quegli anni lì E Ventrella Si era sdato Con il Sanremo E con la telefonia C'era un ultimo Concetto Che valeva la pena Sottolineare Sì Io parlerei Di uno dei grandi Protagonisti Di quel campionato 88-89 Arrivato in Italia Come Quello che Avrebbe dovuto Far dimenticare Ai tifossi della Roma Il ricordo Di Paolo Roberto Falcao Vabbè Qui siamo E Lui è Prego di lanciare Il contributo Dalla Giolappa Passiamo invece Ai fenomeni Parastatali Cioè Quei grandi Campioni Che in Italia Ci hanno fatto Sognare Renato Portaluppi Lui ha detto Ora pochi giorni fa Che era più forte Di Cristiano Renato Portaluppi Come dice La citazione Arrivato come Grande colpo Di mercato Nella Roma Di Lidl Amore Amore è molto Amore è molto Perché era un ragazzo Di una certa Venenza Ma Diciamo Dal gioco Almeno in Italia Particolarmente Discutibile Insomma Era venuto Con i pedigree Di grande attaccante In campionato Non segnò Nemmeno un gol Ne segnò Solo uno Credo In partite ufficiali In una partita Che la Roma Giocò in Coppa A Norimberga Che vinse poi 3 a 1 Qui Non promette gol E questo Fu particolarmente Saggio Forse una delle poche cose Sagge E tra l'altro Una partita Con la Fiorentina Fese lo spareggio Di Perugia Esatto Lo sai Mi capitò In quegli anni Andai in Brasile E sulla spiaggia Di Ipanema C'era un Un crocchio Di persone E c'era Renato Portaluppi Che stava giocando A quello Che in Brasile Chiamano Volley football Cioè Con la rete Da palla a volo E tu giochi Potremente a palla a volo Ma giochi con i piedi Ed era un fenomeno E c'era la gente Così Vedendo giocare Lui in costume da bagno Tra l'altro Renato Portaluppi Se non sbaglio Era allenatore di successo Vedo il quagremio Abbia vinto Qualcosa di importante Sì Ma tecnicamente Non era banale lui Qui fa un numero Traordinario Tra l'altro Qui fa tipo Forza Provate Questa è una partita Cosate lì Vediamo un altro bidone Andrate Perché arrivarono in coppia Arrivarono in coppia Ci sono due Episodio fantastici Questa partita Vì con l'Inter Poi ci sarà il ritorno Quando ormai Lui è Fischiato Dalle tifosi della Roma Eccetera Una giornata terribile Per lui L'Inter L'Inter Trionfa 3 a 0 All'Olimpico Entra in campo E sugli spalti C'è uno striscione Meraviglioso Dalle tifosi della Roma E non ne possano più Che ha arenato Ridace Cochi Se dovessi riemporre La coppia Ma soprattutto Lui a un certo punto Già sul 3 a 0 Per l'Inter È sulla fascia destra Perché giocava a destra Ha davanti Breme E si inventa Una sorta di doppio passo Per superarlo Una specie di Devo dire La matemma di Renato Che ti fonte a Diana Jones Avete detto La matemma di Renato Ripentirete di ciò Che avete fatto Anche lo venda Breme lo guarda Un attimo Li prende la palla E lo lascia lì a sedere Alce due suggestioni Un altro grande restricione A fine campionato Andrate tutti a fanculo Della Roma Perché Esausti E poi c'era il coro Che mi ha insegnato Un mio amico tifoso Della Roma Renato Per favore Vai via Fai bagaglie Vai via Porta Andrade Con te Insomma Sono momenti belli Perché Non fu una Non fu una Calcio mercato La terza La terza Ecco vedete Guardate Questa è la stessa cosa Questa è Renato E dall'altra parte C'è Breme Guarda Gli spara E va E questa è Indiana Jones Un altro capolavoro Renato Portaluppi Adesso Credo Allenatore del gremio Allenatore di successo Insomma Però A quei tempi C'era il problema Per i giocatori Brasiliani Di ambientarsi Nel campionato italiano Ora è tutto più facile Beh Pensiamo Pensiamo A ciò che abbiamo avuto noi Dei brasiliani Uno è stato Socrates L'altro è quel signore Forse il più forte giocatore Mai visto A Firenze O uno più forte Che è Edmundo Pensiamo a quanto Hanno sofferto L'ambientamento E capiamo Non so E bene o male Il problema Della Saudage Dico bene Saudage Sia roba seria Per questo tipo di giocatore Anche Leandro Leandro fece 5 gole Fini 5 partite E poi si inabistò E sparì Ve lo ricordate? Ora Paragonare Con tutto il rispetto A Socrates Edmundo Leandro No Leandro fece 5 gole 5 partite Ho capito Ma chi era Leandro L'aveva pagato Un sacco di soldi Dal porto Se non sbaglio Dal porto Arrivò Si L'ho preso lui Il Nuno Gomez L'anno in cui Andò via Batistuta Arrivarono lui Con questo numero 7 E poi non c'entra avanti Di fatto Il Nuno Gomez All'inizio Si Segnava gol Vabbè il 9 Guarda Aveva il 9 E tu Eh Leandro Leandro era il 9 Vabbè il 9 Leandro Segnava e baciava la maglia Caratteristica Bombe triste Sì ma Rammentami la prestazione Di Leandro Che ti ha colpito No Io non Mi ricordo Vesti primi 5 gole Folle Fiorentina Ferugia Finito 3 a 4 Segnava il 2 Il pareggio a Brescia Allora Segnava il pareggio Con la regina La seconda giornata Segnava Brescia La terza Segnò Due gol Contro il Perugia Di Sarri Quando però La Fiorentina Perse 4 a 3 Di Cosmi Scusate La Fiorentina Perse 4 a 3 Poi segnò Su rigore a Bologna Nelle prime Segnò Praticamente sempre Poi Terim Rimise chiesa Rimise chiesa E francamente Era un'altra cosa Ci si divertì Per due mesi Come non mai Benissimo Allora Vogliamo Riagganciarci un attimo Alla stagione Quella con la Juventus Fu una partita bellissima Vinceremo 2 a 1 E non era una grande Juventus Però quando tu vinci la Juventus All'ultimo minuto È chiaro Che ti restano Le emozioni Nitide Poi in quel caso Borgonovo Il centroavanti Quell'anno Fece davvero cose Straordinarie Anche se ne parlavamo Prima A microfoni spenti Probabilmente Borgonovo Era un centroavanti Che abbiamo negli occhi Sto le due emozioni Ma lì si fermano Perché purtroppo Poi è finita La sua carriera È stata una carriera Davvero ha vissuto Ha vissuto pochissimo Un po' un arcobalino Si è acceso Ha illuminato il cielo Ma poi dopo po' Si è spento La coppia Baggio Borgonovo Se non sbaglio Segnò una trentina di gol In campionato 15-16 Entrò stabilmente Nel Giro nazionale Ed era un'alternativa A Mancini-Vialli Per intendersi Da novembre di quell'anno I media La televisione I giornali Le consigliano Le due coppie E quando c'è Le due partite Fiorentina-Sandoria Il tema è Se sono più forti Vialli E Mancini Se non sbaglio Se ne tocca La Sandoria A Genova Però vince la Fiorentina Perdiamo 2-0 a Firenze Ma vinciamo 2-1 a Genova Quando segna Un gol bellissimo Borgonovo A 10 minuti dalla fine Prima l'aveva fatto Davide Pellegrini Quindi È una Sandoria Che Sta crescendo Va in finale Di Coppa delle Coppe E la perde Fa qualche punto In più della Fiorentina Perché arriva quinta Noi ci dobbiamo giocare Lo spareggio Ma insomma Noi pensavamo Francamente A Firenze Quell'anno Che quelli più forti Fossero Baggio e Borgonovo Ovviamente non era così Perché Mancini Era tanta roba Baggio è più forte Di Mancini e di Vialli Borgonovo È più debole Di Mancini Era una sfida Nella sfida Nel senso che Sapevamo che la strada Di Roberto In nazionale Era ardua In quel momento lì Perché C'era una nazionale Che era composta Da giocatori molto potenti Beppe Giannini Gianluca Vialli Lo stesso Mancini Che allora era titolare Nazionale Prima di arrivare Era l'Andal 21 storica Di Vittima L'Andal 21 Era arrivato lì E Roberto invece Era in qualche modo Di rinterzo Non era mai stato amatissimo Da Maldini Allenatore dell'Andal 21 Però di questi quattro Il più forte è Roberto Baggio Ma di che si può accettare Per me era più forte Mancini Ma faremo un'altra puntata Si fa una puntata Un gioco più completo Secondo me è più completo Aveva colpo di testa Aveva il lancio C'erava tutto Il resto è fatto E quindi siamo entrati In un vicolo cielo In casi un vicolo cielo Baggio diventa titolare Quando si comincia a sapere Andrà via Eh Riccardo Sì La vivemmo Baggio è il genere del calcio Mancini è un buon giocatore Sì vabbè Un buon giocatore Spesso per il letario Baggio 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 È l'essenza del rimorio Non vorrei aprire un capitolo È una fase di vice campionale A Genova o alla Sampdoria A Roma o alla Lazio Sì dalla nazionale Fu dopo gli europei dell'88 Fu un po' emarginato E lì cominciò Il dualismo Giannini Baggio Professor Ventrella Baggio prende una nazionale Sconclusonata di Sacchi E dà solo la porta in finale Faglielo fare a Mancini Lo fanno soltanto i grandi Lo fa Maradona Era la selezione Uno dei più grandi campioni del calcio italiano Però stavano in piedi Sì sì Stavano in piedi È vero È vero Era una squadra privata veramente A fine a fine corsa Senza benzina Senza niente Vabbè Ora io non vorrei aprire una cosa sul Mancini Se non arriva a dire Un calciatore Faremo una puntata monografica Di rifingere 20 stagioni meravigliose In Serie A Con le maglie di Bologna San Cerno Lei c'ha questo concetto Che l'erba del vicino È sempre più verde Per me Baggio Non è la mia erba Quindi c'è problema L'erba viola è sempre più viola E quindi Chi ha di tracciato Tutte le squadre Appunto Baggio non è erba mia Quindi non ci sono problemi Io Non è erba mia Un giocatore che ha vinto il Pone d'Oro La Juve Ci ha puntato in finale Di Coppa UEFA L'ha fatta perdere per me Ma come si l'ha fatta perdere Ora si l'ha fatta perdere Ce l'ha fatta perdere L'arbitro Soriano All'Adreno E ce l'ha fatta perdere Il suo portiere preferito L'Anducci Allora Qui vogliamo fare polemia L'Anducci non è il mio portiere preferito Però Tutti ci ricordiamo Tre o quattro volte Di Baggio Solo davanti a Tacconi Incapace di saltare Una volta la racconteremo Una volta la racconteremo Due puntate monografiche Andiamo Andiamo avanti Invece chiede a Ventrella Se abbiamo altre suggestioni Per questo blocco No Per questo Sull'88 no Allora andiamo avanti E lanciamo Possiamo andare avanti Sul 98 98 99 Eh certo Dieci anni dopo Questa l'ho preferita io Perché in campo C'era il giocatore più forte Che tutti noi abbiamo mai visto C'era tante poste Nella domenica Su questo non litighiamo La Fiorentina vince 4-3 Con l'Inter E per ribattere L'Inter al Franchi Deve aspettare Dieci anni In questi dieci anni Succedono tante cose Non c'è più Pontello C'è Cecchigori Baggio Come diceva Giacomo Cambierà molte maglie Molte squadre E in questo caso Giocherà Con l'Inter Arriviamo al 22 novembre Del 1900 Nel frattempo a Firenze Guarda E toldo Col cuore viola Guarda C'è uno con cuore viola E batto rigore E toldo Fa un fallo dal rigore E per forza Questo è la rigore Lo faccio per dire No no va bene Ecco la mia erba Mi batto rigore contro Questa partita ha un record Che era allo stadio Quel signore qualche anno prima Non batteva un rigore Con un'altra maglia No va bene Faccio per ricordare Beh insomma Qui ci andò bene Non è rigore Allora Questa partita qua Per giudicarla Bisogna essere stati allo stadio E sicuramente Ognuno di voi c'era Perché è storicamente La partita Che ha avuto Il più alto tasso Di vento E di tramontana E di freddo Nella storia Del calcio A Firenze È vero Chi stava in curva ferrovia Sostanzialmente veniva Devastato Da questi refoli Pensate il 22 novembre Quindi non siamo ancora In inverno pieno Ma da questi refoli Devastanti Che arrivavano Da Fiesole Questo è il gol di Padalino Tutto il primo tempo Subito dopo il gol di Baggio Che arrivò al secondo minuto Ci fu il pareggio Di Pasquale Padalino Tutto il primo tempo Di questa partita Fu condizionato dal vento Anche questo gol Che arriva Siamo al sedicesimo Già la partita al sedicesimo Era 2 a 1 Venne giù lo stadio Per questo gol di Batistuta Perché Da veder perdere la partita La vedremo Ribaltata in pochi minuti Guardate Batistuta Guardate Torricelli Come lo abbraccia Guardate la forza di Repka Guardate quanta potenza C'era in questa squadra Quanta cattiveria Quanta grinta Guardate qui Edmundo Che lancia Enric Scatta E vabbè Qui prepariamoci a piangere Guardate Edmundo Che scatta Mette a sedere Taribo West E questa volta Taribo non lo ferma Come fece con Calceschi Arriva Enric In posizione di centro avanti Ed è 3 a 1 E guardate Trapattoni Incredibilmente Che con un vento gelato Stette tutta la partita Tutta la partita in panchina In giacchetta E camicia Trapattoni è un personaggio Che andrebbe studiato Che era il terzino Che salta Edmundo Che salta Edmundo Terribo West Taribo West Sicuramente Solo un anno prima Aveva devastato La carriera di Canceschi Ma Edmundo Ci fu anche Quanto coro Poco simpatico Quello In Taribo West La Domenia Ricordiamo il coro Il fenomeno L'abbiamo preso noi Perché insomma Certo In quella faccina Edmundo la Fiorentina galattica quella domenica, pensate non giocò a Rui Costa che si era infortunato in nazionale Trappi fece un centrocampo tutto, eh lo sapevo la mortadella sui panni ringraziatevi, ve l'ho messa apposta questa battuta uno è Edmundo e l'altro è Edmundo ma quella domenica Rui Costa non c'era quindi amoroso nel mezzo al campo Olivera, Edmundo questi sono i gol di Edmundo e poi Batistuta certamente questo è il gol di Edmundo a Parma con Malesani, questo è il gol di Edmundo l'anno che abbiamo visto contro l'Udinese al novantesimo di settembre al novantaduesimo, un gol di una partita ormai stava finendo 0-0 Guidolin, allenatore dell'Udinese già pregustava il pareggio contro la prima in classifica, invece guardate messo a sedere il buon Turci stadio sempre vuoto vedo grande duetto con Rui Costa partita successiva a questa questa è la partita successiva a quella all'Udinese è la partita di Roma dove la Fiorentina vince fino a poco dalla fine esatto e Trapattoni sostituisce Edmundo e lo manda a quel paese e poi dice Trapattoni ho fatto bene perché non lo vuole pare diverse cose abbiamo scoperto dopo c'era qualche risentimento c'era Batistruta Rombiani esatto questo è il gol a Salernitana nessuno lo leggeva Edmundo dentro Spogliatoio purtroppo purtroppo il duo Rui Costa Batistruta non lo amò da subito eh sì devo dire Edmundo io e Guernini lo amiamo ma negli Spogliatoi non è mai stato un un giocatore amatissimo peccato lui ha spiegato un annetto fa questo è il gol al Bari contro l'Aidu Spalato in campo neutro salta con due finte quando aveva l'unicorno sulla testa eh sì quando c'aveva l'unicorno 2 a 1 sulla testa questo è il questo invece è un gol pazzesco e fa il Cagliari di Ventura che poi è diventato l'allenatore no questo è fantastico questo è il gol a Epoli alla prima giornata di ritorno questo è Roberto Bollo questo è Nurejeve guardate scavetto ma la potenza con la quale salta il difensore davvero da giocatore di alta categoria questa è una punizione a Lecce pazzesca bellissima punizione a Lecce Coppa Italia nella vittoria della Fiorentina a Lecce questo è l'altro gol che fa contro l'Aidu Spalato in due minuti ne fece due Fiorentina ridotta in 10 e perdevano a zero ridotta in 10 e perdevano a zero e poi ci penso con Battistuta che era praticamente come se non ci fosse che aveva male alla caviglia faceva una grande fatica è davvero stato ci sono alcuni mantra del tifo Viola per chi non è andato allo stadio negli anni 50 chi ci andava allora ti dice ma te non hai visto giocare Giulio per chi vuole un mediano si ripete sempre ci vorrebbe uno alla Dunga il terzo mantra è diciamo è che come il mondo noi che si è visto non no magari 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 di Battistuta magari qualcosa di più forte c'è stato ma da un punto di vista emozionale i sei mesi di Edmundo i sei mesi che poi purtroppo sono sei mesi di Edmundo della Fiorentina valgono i sei mesi di Rossi prima dell'infortunio di Rossi forse perché anche Rossi si anche Rossi è da lo tanto ma in Rossi tu vedevi l'applicazione del bravo ragazzo pulito in lui vedevi la trasgressione la bestialità la bestialità l'innocenza selvaggia del nuovo animale l'animale da calcio che ti scatena la passione più 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 sporche tra l'altro Malesani è stato il suo primo allenatore con lui ci fu problemi il quale cedette purtroppo Malesani cedette alle pressioni del duo Rui Costa Battistuta si però poi dopo l'ultima giornata di campionato lo fece Malesani che non è uno scioglio io perlomeno l'allenatore l'ho sempre stimato moltissimo al di là di tante contraddizioni ha raccontato che in realtà lui in campo era un giocatore intelligentissimo che non aveva voglia era pigro non si allenava non aveva voglia ma dice io quando impostavo un movimento un momento della partita che lui avrebbe dovuto fare poi con Battistuta con Olivera lo faceva lo faceva bene ed era anche così intelligente praticamente dal rivisitarlo in qualche modo a secondo di quello che c'era io credo che Malesani non abbia neanche capito il che faceva l'ha raccontato in un'intervista un paio di anni fa l'ha raccontato a teleirine e oggi ti do da Firenze il raddoppio della squadra viola terzo tempo di scusa Ameri ci siamo lasciati con Edmundo io farei un ultimo un ultimo giro su questo calciatore meraviglioso e su quella Fiorentina perché quella Fiorentina è stata forse l'ultima a farci vedere davvero che avremmo potuto vincere il campionato sì anche se due anni e mezzo fa non ci dimentichiamo che in questo periodo due anni fa eravamo primi eravamo primi no siamo stati primi con Sosa per un lungo periodo però quella era un'altra Fiorentina nel senso era stata costruita per vincere c'erano grandi attese devo dire lì davvero fu il salto del Monte Engaggi che davvero da Malesani a Trafattoni decuplicò quasi e quindi era una squadra costruita per vincere e francamente sul campo fino a quel maledetto giorno di gennaio pensavo davvero era una squadra ricordiamolo che aveva in porta se non il portiere italiano più forte uno dei due perché c'erano tolto Buffon Pagliuca poi c'erano i centrali che erano Repka Pierini Padalino Adani insomma erano centrali era forse la parte più debole però insomma Repka Padalino non era male poi avevamo in terzino nazionale italiana Torricelli e della nazionale tedesca c'era Luicosta a centrocampo Cois che era comunque quando stava bene un bel centrocampista e amoroso che insomma riuscì a tappare la fata era il giovane era l'esposo deluse e poi soprattutto appunto c'erano Davanti e poi Edmundo e Batistuta ecco mi viene quasi da piangere purtroppo una squadra di 11 giocatori e basta che perse Batistuta nel momento più importante e che forse quando la condizione fisica non la sorresse più non aveva un'organizzazione di gioco tale da potergli permettere di tirare avanti risultati e partite difficili secondo me fece un giocatore che quell'anno lì fece meglio di tutti al di là delle polemiche facevamo prima fu davvero Luicosta perché quell'anno Luicosta quando Batistuta si fece male fece 4-5 partite eccezionali e tenne la Fiorentina a galla per arrivare terza e quindi per portarla poi in Champions League perché il rammarico per quell'anno secondo me Stefano è questo se lo Scudetto l'avesse vinto la Lazio che era la Lazio di Bobovieri di Salas di Geron non ci sarebbe stava niente da dire il problema è che lo vinse Milan di Elbeg Birov e Zaccheroni e Guglielmi in piedi se non ce lo spiegano ancora loro come fece a vincere per Milan di Elbeg una serie di circostanze tra l'altro credo che l'emblema di queste circostanze fu l'emersione di Abbiati insomma il momento di follia di Sebastiano Rossi nella partita col Perugia che gli costò quando prese per il collo l'arbitro gli costò 5 giornate di squalifica prima se n'era andato Lehmann che Zaccheroni aveva voluto fortemente che se ne andò per evitare di perdere la nazionale tedesca momento di follia di Sebastiano Rossi 5 giornate di squalifica arriva a questo portiere e para tutto e quando Rossi torna trova il posto occupato sono le circostanze del calcio ha ragione anche Fabio nel senso che quella era una squadra basata sulla forza dei singoli non è mai stata una squadra collettiva come tutte le squadre Trafattoni aspettava l'avversario la palla lunga e davanti aveva due fenomeni Edmundo e Batistuta che erano davvero incontenibili come la famontana di Fiesole il merito più grande Trafattoni lo ebbe prima dell'inizio del campionato convincendo prima Batistuta e poi Edmundo a tornare a Firenze perché Edmundo era a Brasile non voleva tornare e Batistuta era chiuso in un albergo sul lungarno con il babbo e diceva mandatelo via perché questo può più rientrare Edmundo e Trafattoni in versione psicologo convince prima l'uno e poi l'altro a tornare a Firenze Verissimo però era una squadra spettacolo ne concedeva pochissimo quasi niente però la vittoria è un bello spettacolo Era una squadra basata davvero tanto anche sulle parate del suo portiere Toldo è fortissimo Quando consolidiamo il primo posto in classifica Stefano portiamo a casa alcune partite che non c'era verso di vincere la partita in casa col Bologna di signori Toldo fa alcune parate al limite anticipa vinciavano a zero con un gol ovviamente di Batistuta ovviamente su punizione tirano da tutte le parti Bologna e Mazzone in condizione strapitosa la domenica prima ha battuto la Juve 3 a 0 e non segnano mai perché Toldo sotto la ferrovia para tutto ha signori a nervo e sulle fasce ai due attori straordinari perché il torricello di quell'anno fa un campionato pazzesco forse davvero il migliore della carriera l'ho sempre riconosciuto Heinrich inizia male ma poi diventa davvero l'unità di Dio soprattutto in fase in fase offensiva e tu dicevi Ricosta il giocatore che si carica sulle spalle il dopo Batistuta secondo me Ricosta l'anno migliore l'ha fatto con Terim nella veste però quell'anno lì fece 7-8 partite dal leader vero devi pensare quando non c'era più Batistuta ti porta in finale di Coppa Italia però ti ci porta lui ha ragione già nel senso che il campionato lo vince il Milan di Zaccheroni che probabilmente non era più forte fu il Milan però che ebbe un merito quando capì era a Milan dove Berlusconi e Gagliani contavano tanto non erano partiti con grandi ambizioni quell'anno ritornare in Europa perché erano due anni che non ci andavano ma quando sentirono l'odore di sangue ci si buttarono sopra e quando in Milan capì che la Lazio era un po' in difficoltà che noi eravamo aboliti le vinse tutte c'è anche l'ora è anche l'ora che Batistuta si fa male proprio in casa contro il Milan a volte il disegno prende una grandissima traversa nella partita contro il Milan sullo 0-0 e prende un fallo da Costa Curta che sarebbe stato da buttare fuori e ricordiamo anche che Milan vince perché Berlusconi impone Boban che è quartista dietro le due punte e quindi Guglielmo Impietro lo salutiamo e sa e Zaccheroni deve dimostrarci la svolta con Berlusconi che impone Boban il quartista a Zaccheroni che accetta e vince il campionato Ventrella abbiamo qualcosa di Edmundo nei tuoi cimeli direi abbiamo quello che si chiamerebbe un Memorabilia tessera telefonica ringrazio Mirko Ruffilli che me l'ha fornita a proposito di telefono tessera telefonica con l'efficio di Edmundo e come ha fatto che cos'è quella si spieghi professor Ventrella cioè era una scheda erano delle serie erano delle serie speciali fatte in co-branding con la Panini tra l'altro è l'arrivo di Edmundo perché Edmundo ha 29 sulle spalle e l'anno di Malesani perché poi i contrafattoni prende l'11 credo che sia stata editata dopo non è del 97-98 credo facesse riferimento a delle figurine difficilmente e chi è che possiede questa scheda? Mirko Ruffilli che è il presidente della Commissione Cultura del quartiere 3 che l'altro giorno l'ha postata su Facebook e io gliel'ho chiesta perché insomma si preparava la montata potremmo fare un'asta tra di noi per comprare questa Edmundiana già il fatto che le schede telefoniche sono un qualcosa scheda telefonica era 10.000 lire che insomma nei primi telefoni inserivi nei telefoni arancioni dove si inseriva la scheda a destra poi ti rimaneva 200 lire allora uno andava con 10 schede dove dentro c'era 100-200 lire e le infilava a ripetizione era la nuova stagione del gettone cioè il gettone diventò tecnologicamente scheda si poteva mettere la moneta il gettone era sparito c'era il gettone il telefono a gettone era sostanzialmente sparito c'era il telefono che accettava le monete e poi aveva sulla destra questo lettore per le schede che insomma uno poi si ritrovava in tasca era veramente un supporto abbastanza scomodo perché poi ti restavano con gli avanzi per cui ti restavano in tasca Alvaro Reco e questo è sempre la stessa serie e il Cino e il Cino Lecoba gli ho visto fare un gol a Lecoba che è un po' nel mondo dell'Inter Lecoba possiamo dirlo perché ha fatto le cose dell'Inter Lecoba che non aveva fatto nessuno il suo periodo è più lungo e c'ha secondo me quel periodo da Venezia straordinario in cui Lecoba e noi lo sappiamo bene c'ero raccontavo a vedere quell'Inter-Empoli e il gol che fece Lecoba perché lo mirò e non è che dice tirare a caso l'alzo alla festa vide il portiere dell'Empoli era Roccati se non sbaglio era fuori porta e questo lo mirò e tirò dentro un gol un gol a Redmundo giocatore da sotto da sotto la tribuna da sotto la gradinata fino all'altra parte con Novellino d'altronde poi l'anno successivo ha ragione Stefano ha detto è meglio di sé e fu l'anno in cui la Fiorentina di Trapattoni perceva tra uno ci distrusse la Venezia ci distrusse anche se poi lui fece un grande campionato con Hector Cooper perché l'anno che l'Inter perse lo scudetto in modo il 5 maggio però non lo dicevi mentre Redmundo c'era la ferocia di giocatore di calcio nel suo volto indio eccolo qua che bellezza il Redmundo lo guardavi e c'è questa faccia scogliata sembra il cinese di Nick Carter si non lo identifico il giocatore di calcio Redmundo ha la cattivella dell'inghio negli occhi che ricorda un po' Passarella anche se lui è di un altro indio argentino Redmundo si va a fare un personaggio da fumetto da cartoon per chiudere questa cosa di Edmundo io vorrei dire che a me ha commosso vedere Edmundo l'anno scorso lui era il commentatore per la televisione brasiliana se non sbaglio da Barcellona prima partita di Coppa dei Campioni cantare il coro che noi tifosi facevamo a lui in diretta televisiva in Brasile dai Edmundo facci un gol ecco questa cosa qui a me ancora adesso fa venire i brividi pensare che questo giocatore è stato così poco a Firenze insomma poi è stata un anno e mezzo travagliato ancora canti il coro che la Curva Fiesole gli faceva ma perché a me dispiace questo periodo in cui ci dividiamo della vagliante e della vagliani e abbiamo perso la nostra essenza di essere una tifoseria talmente contagiosa talmente capace di riversare amore su chi gioca in viola che poi anche Edmundo che è stata a Firenze sostanzialmente un anno perché poi alla fine un anno e mezzo è riuscita a assorbire la prepotenza del bene che vogliamo noi ai nostri giocatori adesso purtroppo non riusciamo più a darlo questo affetto e questa questa nostra unicità non la vedo più così unica vedo altre piazze purtroppo più calda di noi penso a Benzema così Firenze esplodirà e un boato che farà la terra la terra e il mar oh oh io non levo gente per cantare non me ne ho se la mano eccolo qua mamma mia in un italiano un po' prossima ma va bene va bene diventano rimpianti ancora più grandi vorrei dire Baggio non l'ho mai visto rifare un coro che abbiamo fatto detto tutto questo mancano sette minuti alla fine e Ventella vuole aprire Baggio ha fatto la cosa più strolla ordinaria va bene mettersi il viola sopra il bianco nero in maniera così manifesta va bene allora Ventella abbiamo sette minuti e te vuoi tirare una bomba a fine trasmissione io ritengo giusto aprire una finestra sul 1968 questa è attura sono 50 anni guardiamo anche nelle nostre trasmissioni il mondo come era 50 anni fa il calcio come è stato ridotto dal 68 esatto come l'hanno ridotto quelli più grandi di noi tipo il professor Cecchi io sono nato nel 68 mi iniziavo ma io nel 68 ero un bambino quindi vediamo un po' il tuo contributo e poi ci scanniamo allora c'era una partita della quale abbiamo parlato anche prima con il dottore incatasciato è il 10 marzo e la Fiorentina batte per 3 a 0 in Napoli siamo in un periodo caldissimo Valle Giulia è passata da 9 giorni primo marzo 68 qui è il 10 marzo Valle Giulia spieghiamo che cos'è perché le famose contestazioni ad architettura insomma gli scontri con la polizia dove Pasolini prende le parti dei poliziotti quindi siamo siamo nel pieno della contestazione studentesca e con due gol di Maraschi e uno di Chiarugi tre gol uno più bello dell'altro la Fiorentina batte il Napoli che quell'anno era abbastanza forte contese al Milan tra l'altro il Milan di Antonio Valentino Angelillo che è scomparso qualche giorno fa insomma all'ultima stagione importante in Serie A Angelillo giocò solo tre partite per l'anno e il Napoli contese lo scudetto al Milan fino a un certo punto insomma che il Milan arrivò con un vantaggio mi sembra di nove punti sì però fino al ricordiamoci Napoli-Pesaua Napoli-Pesaua con Zoff in porta con Zoff in porta i napoletani perché voi che parla di 68 manca 5 minuti che stai parlando del campionato 67-68 sì ma siamo siamo in pieno 68 in quel momento e insomma sono tre gol esatto sono tre gol uno più bello dell'altro in quel campionato che la Fiorentina gioca in maniera altalenante ma insomma alla fine arriva in buona posizione ed è il campionato che prepara poi la Fiorentina dello scudetto dicevamo che l'assist per uno dei gol lo fa un giocatore particolarissimo fino nel nome Sileno Passalacqua di Borgo a Bugiano che gioca una sola partita per rivederlo quella lì per rivederlo in Serie A dovranno passare guardate guardate cosa fa Sileno guardate Chiarugi con una finta metà serie che pensa è Napoli e poi e per rivedere Sileno Passalacqua in Serie A dovranno passare 12 anni eccolo qua perché eccolo qua giocherà poi io non vorrei ora non vorrei banalizzare Sileno lo chiamiamo così perché l'ha fatto Passalacqua e perché per rivederlo in Serie A dovranno passare 12 anni torna nell'80 col Perugia nell'80 81 fa nove presenze nell'interregno gioca solo in Serie B in diverse squadre tra cui la Ternana e per questo insomma noi lo ricordiamo oltre per questo nome che insomma Sileno uno di quei nomi che sull'arbum delle figurine si notavano a prima vista Sileno Passalacqua ha detto che vi andavi cecchino no questo mi sfuggiva anche a me vedi perché aprire una finestra su 68 l'anno mise ebbe purtroppo ci fu l'esonero di Ciappella che non andava non andava più diventò allenatore Bassi che era l'eterno secondo ma che aveva anche un apporto forte poi con la primavera e quindi Passalacqua ci faccio capire ma lei ogni settimana ci porta un contributo del 68 per capire se lo vogliamo contestare adesso o possiamo contestarlo mi potete contestare anche a rate insomma ecco appunto da dove vogliamo venire Cicchi dalla scuola io considero il 68 l'inserto satirico del 900 nel senso che è stata questa parentesi in cui l'abbiamo buttata il cappello per aria il dramma è che da quella che poteva essere una carica propulsiva per gli anni successivi abbiamo preso la carica goffa gli anni successivi in cui ha inquinato molte cose il 68 a cominciare dalla scuola però non vorrei aprire un dibattito devo dire nel calcio il 68 per fortuna non ha portato grandi sorgimenti quelli arrivano dopo cioè il 68 calcisti è l'Olanda di Cruyffre in cui si evoluziona ma lì qualcosa di costruttivo resta nel 68 che immagino Ventrello lei invece lo ritengono no vogliamo stare a metà tra il calcio e il costume e la storia del resto insomma qui Valle Giulia la citiamo un po' tangenzialmente non vogliamo fare sociologia ci saranno ben altri che la faranno altrove però il calcio ecco diciamo così se il calcio il 68 tutti pensano a Meroni l'idea della trasgressione a Meroni secondo me che tanto non ci arriva nemmeno al 68 anche noi avevamo un merone perché Carugi forse è stato sottovalutato ma era davvero l'uomo naif e colorato trash di George Best nostro uno che gira alla macchina spider con scritto Luciano Chiarugi calciatore è proprio l'essenza della trasgressione 68 un uomo che in campo spesso scatta più volte l'avversario per il gusto edonista del fare spettacolo fino a se stesso in casa il 68 però chissà perché di Meroni di Best è rimasta questa luce di chi disse giocatore straordinario però Chiarugi secondo me era di quella guardate bella la maglia di Chiarugi con lo scudetto sopra il ciglio mamma mia guarda che bel viola e soprattutto avete visto le immagini quanto sta bene questa maglia così pulita col pantaloncino nero io rimango dell'idea che cromaticamente è una cosa avremmo potuto farla magari facciamo la prossima visto che si sarà chiuso Pitti da poco sull'eleganza del calcio questa è più questa è moltissimo parlare sulle maglie della Fiorentina tra l'altro questa maglia imposta insomma anche una discussione possibile sui due differenti colletti insomma il collo a V leggermente a V o il giro collo collo a V più vintage guardi la meraviglia di questo colletto e poi ci fu questa cosa innovativissima perché vedete per avere lo scudetto tricolore la Fiorentina cambia stemma perché tira fuori il giglio dal quello scudettino da quello scudettino rombetto come volete chiamarlo e si inventa questa cosa che per i tempi fu davvero una cosa innovativissima avere lo scudetto accanto non un altro scudetto ma un giglio che lo sovrasta io mi ricordo siccome purtroppo in quegli anni c'era a differenza vostra eccoci ecco là questa maglia è la summa della bellezza nel calcio fermi tutti perché abbiamo deciso di cosa parleremo nella prossima puntata visto che c'è la sosta non so se per la nazionale non ce ne frega assolutamente niente le maglie e i giocatori più eleganti della storia della Fiorentina e in generale del calcio vi aspettiamo la prossima settimana qui a Teleide grazie a Stefano Cecchi a Fabio Incatasciato e a Riccardo Ventrella e a voi che siete stati qui con noi di Scusa Mary Dall'Olimpico Roma in avvantaggio improvviso un gran diagonale la Lazio con il cerboni ha recuperato il pallone Lorenzo sulla destra scusa Mary sono destinato a interromperti oggi ti do da Firenze il raddoppio della squadra viola con Bertoni la Quarentina 2 Torino 0 dell'Olimpico Roma